In questo gioco approfondiremo la mente contorta di un creatore fantasioso, costretto a fare i conti con la manifestazione delle proprie creazioni. Quindi, prendete le cuffie, allacciate le vostre cinture e lascia che il terrore abbia inizio. Ciao a tutti ragazzi, sono MartyVJ ed oggi siamo su The Joy of Creation. Un gioco fun game di Five Nights at Freddy's, ovviamente mai giocato nella mia vita, quindi perché non iniziare questa nuova avventura? Specifico che è una demo e iniziamo subito un nuovo gioco. Contempia, siamo già nella mente del protagonista credo, ho cliccato su... Tre puntini! Contempia ancora, ok, contempia. Emerge un'impennata, questo gioco ragazzi sembra in inglese quindi vi dovrò tradurre tutto. Contempia, devo sapere di più, ma che cosa? Che devi sapere? Osserva! Oh, altre cose, osserva. Una visione strana, mancante di descrizione. Osservo di nuovo. Puntini contro il Void o il Nulla. Oddio, il Void! Oddio, abbiamo lo spazio dietro di noi. Ah, stiamo osservando cosa stiamo vedendo, ok. Oddio! Una Luna! Ah no, è il mondo. Il mondo gira per me. Osservo, osserva tutto, osserva tutto. Vediamo che c'è. Un percorso, una destinazione. Il percorso, il percorso. Stiamo andando. Stiamo camminando. Che cos'è? Non c'è nulla davanti a noi. Che cosa mi aspetta? Ah, oddio, pensavo fosse... Oddio! Pensavo che ero io. Vabbè. Qualcosa... Qualcosa è brutto. Che c'è? Ah, mi posso muovere. Ragazzi? Qua c'è un giornalino. Oddio! C'ho una torcia, F. Non funziona la mia torcia. Pintiamo in questa stanzetta, che è il ripostiglio. Qua c'è... Mamma mia, ma stai calmo! Eh, vabbè. Quindi apro le cose con il tasto sinistro del mouse. Ah, qua c'è il fusibile. Qua c'è il fusibile rotto. Ah, hai visto? Mantieni la luce. Noi ritorniamo al nostro posto. Entriamo qua. Uh! Uh! Ci abbiamo delle telecamere. Ok. Beh, è casa nostra, ok. Possiamo cambiare l'angolazione. Qua siamo fuori casa. Non c'è nessuno, va bene. Andiamo qua. Qua è il ripostiglio. Ho notato che questo è il ripostiglio. Questo è il ripostiglio. Visto nella videocamera. Avete visto quella... No! Dove stanno i fusibili? Aiuto, ragazzi. Non so dove andare. Amici, aiutatemi. Eh, aiuto. Il problema è che non ho trovato fusibili. Questa è la cosa. Eccolo il fusibile. Però lui ha fatto una cosa bruttissima. Chi c'è dietro di me? Posso... Posso andare a mettere le mie cose? Cioè, fusibile. Non mi fa... Oh! Non mi fa mettere! Non riesco ad aprire! Ragazzi, che stiamo facendo? Non lo so. Il computer. Che cosa mi dice? Niente. Creatore. What? Che sta dicendo? Aspetta. Ho costruito uno scenario per te. Potessi chiamarlo un gioco. Le regole sono familiari per te. Per vincere devi trovare un orso e accecarlo. Fallo fino a che l'orologio si completa. Non esaurire l'energia. Ti controllerò. Buona fortuna. Eh, ok. Oh! Ah, quindi abbiamo perso, credo. Quindi devo lasciare la luce accesa. Controllare le videocamere. Se la corrente va via, dobbiamo trovare i fusibili e metterli. La mia torcia non funziona. Non so come far funzionare la mia torcia. Posso, posso far funzionare la mia torcia? Ah! Va bene, via. Ok. Chi c'è? Ah! Ecco. La torcia non mi funziona più? No! No, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Mettine. Prendi il fusibile, prendi il fusibile. Ti prego, fai veloce. Corri, 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 corri. Ah! Non corri in questo gioco. Ecco, sì, corre, bene, bene. Vai. Levo il fusibile, mettilo. Con tanta potenza. Bene. Bene, abbiamo di nuovo la corrente. Qua posso vedere fuori. Chi è? Ho sentito qualcuno. Guardate, questo è traspasso di proprietà. Non potete stare qui. La mia torcia non funziona, quindi lasciatemi in pace. Non è che devo trovare batterie. O qualcosa del genere. Ah, i fusibili. Ah, ok. I fusibili si trovano qui. Per la torcia come faccio? Come faccio ad accecare l'orso? Quindi quell'animatronic era un orso. Da quello che ho visto. Chi c'è? Che è successo? Chi volete? Chi vuole? Chi c'è? C'è qualcuno? Ok. Eccolo l'orso! Qui l'orso! Ti faccio male! Non funziona però la torcia. Allora, signore, ti acceco. Dove sei? Azzosso! Non saprei... Non so che cosa fa il tipo. Qua? Chi c'è? Sei? Egh! Buono sto caffè! Foxy viene da noi di soppiatto quando lo guardi in una zona sicura. E respingilo prima che ti prende. Come lo respingo? Con la torcia, per forza. Adesso mi ha dato anche un'altra regola, che è non guardare al coniglio. Quindi, la mia torcia dovrebbe funzionare adesso. Esatto. Ehi, c'è! Era lì! Dove sei? Ti puzzi. Quindi, se la vedo... Ok, la devo guardare? Ok, facciamo finta di niente. Qua? Ah! Come faccio ad andare fuori? Ah, che bello... Ah! Mi ha rotto la videocamera! Come faccio adesso? Ma che gioca è mai questo, ragazzi? Ah! Qui si guarda fuori! Ah! Ok, si guarda fuori da questa finestra. Va bene, oddio, il fusibile. Prendi il fusibile e andiamo subito via. Perfetto. Oddio! C'è... Ah! Devo cambiare il fusibile della camera 2. Bene, sto scoprendo cose di questo gioco. Il problema è che è un casino. Perché le regole sono un po'... Non sono molto chiare. Per essere una demo... Dovrebbe dirti. E quindi non... Ehi! Mi vado proprio velocissimo. Tutto tranquillo. Senza che mi succede niente. Buongiorno. Io, io... Anche se... Eccolo! Oddio! Voglio provare a usare la mia torcia. Credo sia l'orso, però. Non era l'orso. No, era l'orso. L'ho accecato. Ma quindi ogni volta che mi acceca mi deve fare un jumpscare. Wow, che bel gioco. Oi! Tu ha visto? Credo fosse Foxy. Cos'era? È lì. L'orso è lì, ok. Attenti per il jumpscare. Eccolo! Sozzo! È l'una di notte, per caso? Sono le due di notte, ragazzi! Direi che dobbiamo andare alle sei di notte. Ok. C'è qualcuno qua? Cavolo, cavolo, cavolo. L'energia, l'energia. No, il fusibile non è qui. Il fusibile è qua. Sicuramente è qui. Qua giù. Sì! Conosco tutti i posti adesso. Sono un fenomeno veloce. Bene. Eccolo. Metti qua. E il fusibile per il coso non capisco. Forse devo trovare un fusibile e metterlo qua. Vuoi vedere che forse è così? Forse devo trovare un fusibile come faccio di solito. Però quel fusibile lo metto sulla torcia. Sì! Sotto! Basta urlarmi in faccia che non mi piace. No, 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 no. Ok. Bene. La torcia non funziona più. Prendi il fusibile e ricaricalo. Vediamo se è così. È logico. Quindi spero sia così. Metti lì. Il fusibile è qua. Ve l'ho detto! Ve l'ho detto, ragazzi! Mamma mia! Bene, funziona. Dove stanno gli altri? Li mangio tutti. Però non voglio il coniglio, eh. Il coniglio è brutto. Nemmeno Foxy voglio. È qua, è qua fuori. È qua fuori. È qua fuori. Dov'è? Dov'è? Non funziona. Non c'è. Sono le tre di notte! Qua. Ah! Mi ha distrutto tutto. Mi ha distrutto. Chi era? Mi ha fatto... È! Aia. Mi ha respinto. Oh! Guarda che non si fanno così, eh. Non si aggredisce la gente. Cioè, mi ha fatto esaurire la luce. Non è molto bello da parte tua, eh. Mo' devo trovare tre fusibili, mannaggia. No. Chi c'è qua? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Qui? C'è qualcuno? Entriamo. Non ci credo. Io non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Ah! Ho sentito dei pa... Eccolo. Freddy! Mamma mia, per essere una demo... Eeeh! E me lo aspettavo pure. Cioè, ragazzi, questa è una demo. Pensate il gioco ufficiale. Eccolo. È fuori. Andiamo fuori. Eccolo. Mi ha fatto male, eh. Sono le due. Bene, ci sto... Ci sto prendendo la mano. È molto... Molto divertente. Questi animatonics non hanno rispetto. Li dobbiamo educare, ragazzi. Mi dovete aiutare voi. È qua. Eccolo! Mamma mia! Perché mi dovete fare sti jumpscare? Sono le tre. Foxy dovrebbe venire adesso. È tutto silenzioso. Come ma? Ah, è quello il coniglio! Annunzio, nel fusibile. Lo devo... Devo trovare due fusibili, mannaggia. I fusibili... Dove stanno? Ecco, uno è qua. La videocamera la sistemiamo dopo. Mettiamo prima l'energia. Perché se no qua muoio. Eccolo! Sì! C'è qualcuno. Perché ci mette così tanto? Perché guarda il fusibile? Perché sono? Sono le quattro. Ma io ti ho... Io ti ho fatto... Va bene, ragazzi. Se questo video vi sia piaciuto, spolliciate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Condividete il video. Se volete il secondo episodio, lasciate 10 like. Grazie ad Alex Creation Live che me l'ha consigliato. Quindi, detto questo, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!